musica 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 io bella raga io bella per il ring light io bella raga non li paga vabbè vaffan musica musica stavo dicendo che voi donne siete tutte strane chiede le prime consigli e poi fate testa vostra ma allora che ci chiedete a fa e ti diciamo un consiglio è quello allora va a fare rimango con gli amici di sempre quei quattro mi ritornano in mente ti guardo sempre più apparisciente non serve sto contando i segni sulla mia pelle ricali 18 esce un tik tok di dio con la nuova canzone di salmo e danny five quindi alle 18 tutti i carichi pronti per tik tok rega dobbiamo fa esplode siamo in giro a mezzanotte siamo nocche sulle porte sai quando vedo gente pazza per i like io invece penso col flow ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti